Undici rose e blu è l'autobiografia di Carmine Esposito uscita da qualche giorno nelle librerie edita da AB Edizioni e redatta dalla giornalista Michelea Micheralanza e siamo qua con Carmine Esposito nel giorno della presentazione di questo libro perché quando si fa un'autobiografia Carmine in genere è una sorta di punto di arrivo si ha voglia di raccontarsi, si ha voglia di mettersi a nudo e in questo libro tu lo fai in maniera molto pulita e molto sincera Ringrazio Michela che ha fatto un ottimo lavoro in questo libro praticamente ci sono i miei 44 anni di vita sia calcisti che soprattutto della famiglia perché io in questi anni non ho mai raccontato la mia famiglia, le mie sorelle, i miei figli, i miei genitori, i miei parenti quindi ho parlato con Michela e Michela mi ha tirato fuori il meglio di me stesso, basta che poi ci vuole poco Senti, tanto calcio ma appunto anche tanta tanta vita ed è proprio la vita che a me personalmente ha colpito perché Michela è stata molto brava nel romanzarla, cioè sembra veramente di essere lì con te nelle strade di Napoli quando metti a posto le tue pantofola d'oro oppure quando palleggi con Diego Armando Maradona Ma quelli sono i ricordi più belli penso perché comunque ognuno di noi nell'infanzia ha i ricordi io sono sempre stato un ragazzo che ha vissuto per strada perché comunque giocavo scalzo per strada e addirittura sembra un controsenso poi trovarmi nello spogliatore con Maradona uno dei giocatori più forti al mondo e essere addirittura paragonato come il suo pupillo il suo piccolo scugnizio nero nero però ti ripeto, su tutte cose che fanno piacere in questo libro sono veramente contento perché c'è scritto davvero chi è Carmine Esposito e Carmine l'abbiamo detto mille volte, Empoli è un capitolo molto molto importante nella tua vita ma sicuramente, Empoli mi ha fatto diventare calciatore e soprattutto uomo perché comunque in quegli anni, parlo 17 anni fa, ero arrivato da piccole realtà come poteva essere l'Empoli allora però io insieme all'Empoli sono cresciuto addirittura scalato dalla C alla B alla A e poi mi sono consacrato come calciatore ho detto che in genere quando si fa una biografia è una sorta di punto d'arrivo ma di strada da fare ce n'è ancora tanta tantissima, questo è soltanto un primo tassello sicuramente domani sera, ricordiamo ancora la partita, ricordiamoci allo stadio Carlo Castellani un evento per celebrare quella meravigliosa cavalcata, quella meravigliosa annata e per riabbracciare tu e tutta Empoli, tanti amici quella è la cosa più importante perché ho visto già adesso Giovanni Martuccello e Roccati un'emozione unica perché comunque anche Marco erano 17 anni che non li vedevo e domani non vedo l'ora, sto facendo il conto alla rovescia per arrivare domani sera perché rivedere i giocatori che comunque hanno contribuito a quel triennio hanno anche contribuito comunque a far diventare esposito importante perché comunque non posso dimenticare, sì io facevo gol, però loro correvano tutti per me Per chiudere tu l'hai scritto qua, ma a chi va la dedica di questo libro? Sicuramente a mio padre, la persona più importante della mia vita non gli ho mai dato tante soddisfazioni ma da adesso in poi è cambiato